Purtroppo il binomio estate-abbandono cani in generale, comunque animali, è sempre più consolidato. È un fenomeno anche economico. Tutti questi cani abbandonati, animali abbandonati, dove finiscono? La maggior parte muoiono. Muoiono appunto sotto le macchine, muoiono di stenti, muoiono di fame, di sete d'estate o di freddo, di fame d'inverno. E' così, questo è la maggior parte. O se no vengono recuperati dal canile. Oppure qualcuno più fortunato, trovano adozioni immediatamente dalla strada, sappiamo mille storie di persone che adottano il cane perché se lo trovano in mezzo alla strada e lo trovano. Oppure vengono classicamente accalappiati e portati in canile. Io ho dei dati anche qui, soltanto per fare degli esempi. Al canile di Milano transitano ogni anno un migliaio di cani. A quello di Genova, ovviamente quelli dove ho lavorato, ne transitano 900 all'anno. A quello di Roma, tra i 1300 e i 1500. Vengono mantenuti dalla collettività. Quindi costano, quando stavo in provincia di Milano avevo calcolato che i 189 comuni che allora facevano la provincia di Milano, spendevano 3 milioni e mezzo di euro per il mantenimento dei cani canile. Perché, sempre a proletto di leggi, l'Italia ha una legge molto avanzata. In molti paesi, anche d'Europa, dopo X giorni... Allo vicino, tipo la Spagna, possiamo dirlo. Vengono abbattuti. Vengono abbattuti. Così si faceva fino al 91, perché la legge è la legge 281 del 91, che ha dato il diritto alla vita ai cani. prima di allora venivano eutanasizzati. Oggi, per fortuna, non succede più. Succede nella maggior parte dei paesi europei. Però, quindi questo è stato un passo avanti di civiltà, ovviamente, Claudio. Però, non vuol dire che... Ah, va bene, allora possiamo abbandonarlo, tanto viene accalappiato. No, anche perché diventa appunto un costo per la comunità. Esattamente. E' una prigionia per la nonna. E' una prigionia.